ragazzi buona giornata da mickey crow andiamo a presentare il terzo pacchetto delle carte di stambul guys official card codice ovviamente 5 nuove carte carte ovviamente su 162 se volete andate a vedere ovviamente anche le altre andiamo subito a vederle nel dettaglio ragazzi una una mi raccomando lasciate un like al video e dite quale vi piace ecco la prima qua crimson scuola ragazzi carta leggendaria guardate molto molto bella ecco ed ecco la seconda ragazzi vediamo cosa sarà ecco qua santa claus ragazzi altre carta leggendaria molto bello il babbo natale e la terza vai ecco qua una carta epica ragazzi argentinian shark molto bello lo squadro argentino molto molto carino è tutte carte che non ho ancora e vediamo la quarta ecco south korea tiger ragazzi il tiger del corea del sud sempre carta epica e vediamo l'ultima sono proprio curioso ed ecco qua quarterback non comune ragazzi eccola qua molto molto carine altre 5 nuove carte vi faccio nuovamente una carrellata ragazzi delle 5 carte vi invito a commentare a dire cosa vi piace guardate anche gli altri due video e presto li metterò nel raccoglitore una buona giornata a tutti ragazzi vi voglio bene g ehi guys ragazzi